Sono stimolato da questa avventura, ho lasciato una squadra di serie D per stare qua, quindi ho lasciato qualcosa di importante, ma secondo me il Barletta come blasone, come voglia, è un qualcosa di più importante. Ha riscisso il suo contratto con il vasto Girardi in serie D per scendere di una categoria e accettare la proposta del Barletta. Francesco Farina non ha avuto esitazioni, nella stagione 2020-2021 ci sarà l'allenatore casertano sulla panchina bianco-rossa presentato nell'entusiasmo dei tifosi e con una certezza. Queste sono le sfide belle, è normale che la pressione c'è sempre, però c'è il rispetto del ruolo, il rispetto del pubblico, c'è il rispetto per una piazza che ha dato tanto. In carriera Farina ha già vinto il campionato di eccellenza, lo ha fatto in Molise con Boiano e Campobasso, in Campania con il Marcianise, in Puglia con l'audace Cerignola. A Barletta lo legano solide amicizie e un aneddoto risalente a 32 anni fa. Io sono stato la prima volta a Barletta nel 1988 e c'era mio cugino Gianfranco Farina che allenava la primavera del Barletta in B e l'allenatore era albanese, ha fatto pure due presenze con un albanese squalificato, quindi io conosco bene questa realtà e la pressione, cioè chi non so deve stare a casa chi non vuole sentire la pressione. I primi passi saranno rappresentati dal calciomercato, alla voce entrata in attacco, tra i profili valutati ci sono quelli di morra e di rito. Questi sono due giocatori importanti per la categoria, mi piacerebbe averli con me, però deve essere brava la società a prenderli. Io allenerò quelli che la società mi metterà a disposizione, mi auguro che siano giocatori importanti. Si ripartirà anche da alcuni tasselli dell'organico 2019-2020. Farina conosce bene Varsi e Bonasia, ma hanno buone possibilità di riconferma anche Milella, Bruno e Aprile. Ha una condizione, la giusta mentalità. Per vincere ci vogliono giocatori con la mentalità giusta e in questa categoria, in eccellenza pugliese. L'occasione è stata utile anche per presentare il nuovo organigramma societario al presidente Mario Di Miccoli. Si affianca il vicepresidente Michele Lattanzio con Antonio Palladino, direttore generale, i consiglieri Ruggero Cristallo, Francesco Di Vittorio, Francesco Mennuni, Michele Mennuni, Pasquale Fiore e Felice Di Micco. Tra i temi sul tavolo anche l'eventuale ripescaggio in D. Abbiamo secondo me 10% di possibilità di ripescaggio, quindi è inutile pensarci. Abbiamo una squadra importante in eccellenza che eventualmente se la possa giocare anche in D. Ultima grana, lo stadio. La dirigenza ha annunciato che inizierà la stagione allenandosi a Trinitapoli e giocando le gare ufficiali a Canosa, lasciando così il Manzichi Apolin. Giovedì prossimo è in calendario un incontro con l'amministrazione comunale di Canosa sul tema, sempre in attesa di tornare al Puttilli. Lo stadio lo avremo credo a novembre-dicembre e questo consentirà il nuovo stadio ovviamente di potersi giocare tutte le carte che vogliamo per poter ambire risultati migliori.